Non ho capito che cos'è. Signora io la sto contando, hai innanzitutto chiamato la signora Stefania Gobbi. Eh sì, è un'amica mia. Ok, perfetto. Allora, siccome voi siete i nostri clienti sul cellulare, noi ti stiamo contattando perché ci sono delle agevolazioni sulla rete fissa a casa. Lei ha già la rete fissa? La rete? Sì, ha messo mio marito la rete per non far uscire i cani fuori dal giardino. Non ho capito. Mio marito ha messo la rete per non far uscire i cani fuori dal giardino. Cosa c'è? Cosa c'è dentro a questo signora? La rete? La rete fissa a casa, non il cane che esce dal giardino signora, non la rete recinto. Ah, ho capito. Ah, la rete di internet? Eh sì. Ah sì, sì, ce l'ha mio marito, sì, sì. Ce l'ho, ce l'ho. Ah, con quale gestore si trova signora? Aspetta, mi sembra che è Pasta Pep. Pasta Web? Eh, bravo, quella cosa lì, sì. Ok, da poco ha effettuato il passaggio signora? Ah non lo so, è dono mio marito, è fatto luce. Ah, ha fatto luce. Cioè, quando è possibile parlare con il suo marito? Con mio marito veramente non è che tanto possibile, perché mio marito si è comportato molto male ai miei confronti, che noi siamo sposati, che mi ha portato, è un paese che io non conosco nemmeno, e mi ha fatto pure le corno mio marito, capito signorino? Sì, ma perché sta piangendo? Perché in un momento proprio brutto, mi sento proprio male, questo non è venuto proprio brutto, mi ha fatto le corno mio marito, signorino? E mi ha lasciato così, mi ha lasciato, ha un paese che non conosco nemmeno. Avete capito? Ma come va, signora? E che ne so, aveva trovato qualche c***o, che mi ha messo in mezzo. Non lo so, signorino, non lo so. E se lui c'è anche la rete ogni tanto viene e va, io non lo so che mi devo comportare. Non c'è nemmeno quello che paga, quello che non paga, perché mi ha messo tutto in faccia a me, stufetendo. Ma non deve piangere, è morto un paese, se ne fa un altro. È morto pure il paese, è morto, mamma mia. Che disastro. È morto quando è morto? Sia tranquilla innanzitutto, comunque se non c'è, se non se ne occupa lei della gestione a casa. Sì, ma quando è morto il paese, signori, ma stamattina, non c'è sentito niente ieri sera alla televisione. È morto pure il paese, è morto pure il paese, ma io non c'è sentito niente ieri. No, non è morto il paese, signora. Ha detto lei che è morto il paese. No, vabbè, era un modo di dire, vabbè, comunque se non se ne occupa lei, signora, della gestione a casa. Sì. Non... Sì, se volete vi faccio chiamare a chi lo ha disgraziato bastardo, che mi ha lasciato così. E bambino, non so che devo fare, signorino, veramente, voi mi potete aiutare? Sì, non deve piangere, deve andare avanti, tutto qua. Eh. Faccia finta che non è successo nulla, va bene? Che sapevo il traffico, un pozzo manca ad andare avanti qua, vabbè, fornire. Vabbè, non si preoccupi, sei tranquilla, cioè, non piangai più, salve. Molta giornata, signorino, grazie, grazie.